Salve da Scripta Manent. Quella che stiamo vedendo è Trafalgar Square, cioè una delle piazze principali più belle e più storiche di Londra che ancora oggi dopo decenni testimonia una delle più grandi vittorie sul mare della marina britannica. Quindi vedremo la battaglia di Trafalgar perché innanzitutto le battaglie sul mare sono tra le più belle in assoluto da vedere e da ricordare. Poi ci sarà tanta strategia per i mari di tutto il mondo, ci sarà un elevato e raffinato pensiero tattico e poi dei momenti veramente da film compresa la eroica e straziante morte di Orazio Nelson. Quindi mettetevi comodi e cominciamo questo documentario perché parleremo di una grande storica battaglia che merita di essere ricordata per sempre. Grazie a tutti. Prima di arrivare a Trafalgar ricordiamo sul nostro shop online, sul nostro negozio online, finalmente il grande successo dei vessilli delle legioni romane antiche, le più gloriose legioni di Roma. Abbiamo ricostruito i vessilli antichi con il nome della legione, con l'animale che lo rappresentava, con la nostra Rosa Bettella, cioè la disegnatrice che in esclusiva per noi ha realizzato questi disegni che sono delle riproduzioni su tela pregiata, realizzata a mano, quindi un prodotto di lusso o in questa forma che vedete con la cornice oppure, come vi ho fatto vedere nell'altro video precedente, questa che invece è la forma che proprio ricostruisce il vero vessillo che veniva poi portato sui campi di battaglia dai legionari. Quindi sul nostro portale scoprite i vessilli dell'antica Roma, scoprite il vostro vessillo della legione preferito e ordinatelo per averlo in pochi giorni a casa vostra. E nel frattempo che ovviamente scegliete il vostro vessillo, la nostra storia però è molto, avviene molto molto dopo. Siamo infatti con la battaglia di Trafalgar nel 1800, agli inizi dell'Ottocento. E gli inizi dell'Ottocento sono dominati dalle guerre napoleoniche. Napoleone ovviamente stava perseguendo la sua politica imperialista e di espansione per l'Europa e per contrasto si stavano formando delle vere e proprie coalizioni antinapoleoniche. E in particolare la nostra storia, la nostra battaglia è al tempo della terza coalizione contro Napoleone, quindi per controbattere il grande impero che Napoleone stava creando. Qui i nostri due contendenti sono ovviamente la Francia e la Gran Bretagna, che erano nuovamente in guerra. E qua notiamo subito che abbiamo due imperi molto potenti, la Francia guidata da Napoleone, quindi al massimo della sua forza e della sua potenza militare, e la Gran Bretagna che è il principale antagonista sui mari della Francia. La storia quindi comincia proprio con la Gran Bretagna che, vedendo in Napoleone una cerrimo nemico, esegue subito una prima operazione militare con la sua potentissima flotta e in particolare provvede a bloccare due porti francesi che erano in una posizione fondamentale. Il primo porto che venne bloccato è quello di Brest, nella Bretagna, dove l'ammiraglio francese Gantum venne bloccato da Sir Cornwallis, che fece veramente un blocco navale per tenere Gantum e la sua flotta fermi nel porto di Brest e impedirgli qualsiasi tipo di movimento. Una azione parallela avviene nella città di Tolone, dove l'ammiraglio Villeneuve, al servizio ovviamente di Napoleone, venne bloccato con un blocco analogo dal famosissimo viceammiraglio Orazio Nelson. Nelson operò un blocco particolarmente duro nei confronti di Villeneuve e disse anche alcune frasi che ci sono state riportate dalle fonti che dice se vuoi catturare il tuo nemico il modo migliore è lasciare che il tuo nemico venga verso di te, proprio a significare che il suo blocco nei confronti di Villeneuve era una sostanzialmente si basava su una tattica di logoramento dell'avversario sperando che Villeneuve avrebbe deciso di arrivare in una battaglia marittima. A questo punto, dopo che la Gran Bretagna ha bloccato questi due porti francesi, c'è un nuovo elemento importante, nel senso che l'anno dopo, il 1804, la Spagna che vedeva nella Gran Bretagna un antagonista nel dominio sulle sue colonie, quindi era un avversario coloniale, decide di scendere in campo alleata della Francia. Quindi avremo veramente una coalizione franco-spagnola che si oppone alla Gran Bretagna e quindi le forze in gioco sono piuttosto importanti. Napoleone è costretto a pensare a un piano non solo per disinnescare questa situazione contro la Gran Bretagna, ma anche per programmare la invasione della Gran Bretagna. E che cosa prevede il piano di Napoleone? Prevede che l'ammiraglio Villeneuve, che viene tenuto fermo sotto scacco a Tolosa da Orazio Nelson, improvvisamente forzi il blocco imposto da Nelson e si diriga però nelle Indie Occidentali, che è il nome antico con cui si chiamavano le isole del Mar dei Caraibi. Lui deve raggiungere le Indie Occidentali, deve raggiungere il Mar dei Caraibi e attaccare le colonie inglesi che sono in quell'area, in quella porzione. La stessa identica cosa dovrebbe fare Gantem, dovrebbe forzare il blocco di Cornwallis e raggiungere anche lui con la sua flotta le Indie Occidentali, attaccando le colonie inglesi. Perché? Perché in questo modo la flotta inglese sarebbe stata deviata verso le Indie Occidentali e quindi la forza della marina britannica sarebbe stata distratta in questa zona del mondo. Al che, dopo circa due mesi di combattimenti era il tempo previsto da Napoleone, sia Villeneuve che Gantem avrebbero dovuto immediatamente fare ritorno in Francia e in Spagna, liberare gli ultimi porti francesi dai residui dei blocchi britannici, attraversare lo stretto della Manica e invadere la Gran Bretagna. E nel frattempo che tutti questi movimenti si stavano organizzando, Napoleone iniziò ad ammassare 161 mila soldati sulla costa dello stretto della Manica, proprio per caricarli sulle navi e permettergli poi di sbarcare in Gran Bretagna e di invadere il paese. Questo è il grande piano di guerra, il grande piano di Napoleone, per superare il blocco della Gran Bretagna e contrattaccare in una invasione in piena regola. A questo punto, ovviamente, questo è il piano di Napoleone. Dobbiamo vedere nella realtà che cosa è successo. Allora, Napoleone dà quest'ordine e i suoi ammiragli eseguono. Villeneuve, con un attacco a sorpresa, riesce effettivamente a forzare il blocco di Nelson e si dirige verso le Indie occidentali. Nelson, in quel momento, quando Villeneuve forzò il blocco, non era presente sul posto, quindi viene raggiunto da questa notizia, ovviamente si preoccupa perché la sua missione di blocco è fallita, e allora si mette subito alla ricerca dell'ammiraglio avversario. Però Villeneuve è scappato, ma Orazio Nelson non sa esattamente dove, perché le informazioni non erano a portata di mano come oggi. E in particolare Nelson pensa che, come accaduto altre volte, Villeneuve si sia diretto in Egitto, che era anche lì una colonia britannica più volte attaccata. Quindi Nelson veleggia immediatamente verso l'Egitto e nelle acque egizie si mette a cercare Villeneuve perché crede che sia lì. Poi però, dopo diverse settimane, non vedendo Villeneuve, riceve una notizia dei servizi segreti britannici che lo informano che Villeneuve è andato verso i Caraibi. E allora lui immediatamente prende le sue navi, fa rotta verso i Caraibi, verso le Indie occidentali, all'inseguimento di Villeneuve. Solo che i suoi servizi segreti gli avevano assicurato che Villeneuve sarebbe stato rintracciabile a Trinidad. E invece Nelson, quando arriva a Trinidad, non trova Villeneuve, perché queste informazioni erano precise e giuste, ma solo parzialmente. Nel frattempo il piano di Napoleone per metà non funziona, per il semplice fatto che Gantum, che si trova a Brest, non riesce a forzare il blocco imposto da Cornwallis e quindi il piano di Napoleone in realtà funziona a metà. A questo punto Villeneuve, che si trova nei Caraibi, decide da solo di ritornare verso la Francia e cercare di liberare Brest per unire la sua flotta a quella di Gantum. Cerca di andare verso Brest, ma Cornwallis viene informato, schiera molto bene le sue navi per difendere il suo blocco e inoltre, assieme a Robert Calder, che si trovava a Ferrol in Spagna, riesce ad avere un supporto ulteriore di navi e a bloccare il canale della Manica, per impedire che i francesi si presentino di fronte al canale della Manica. Quindi a questo punto Villeneuve non riesce a liberare Brest, questo è un po' il problema. Napoleone diede di nuovo l'ordine a Villeneuve di eseguire un secondo tentativo di liberare il porto di Brest, ma Villeneuve in realtà temendo, veramente temendo, che gli inglesi potessero braccarlo da un momento all'altro, decide di cambiare rotta e decide di andare verso Cadice, in Spagna, per riorganizzarsi e prepararsi evidentemente ad una battaglia decisiva. Nel frattempo anche Nelson, che stava ai Caraibi e stava cercando Villeneuve, decide di ritornare in patria, riorganizza la sua flotta, fa una nuova leva di marinai di alto livello e nel 1804 riceve la notizia che Villeneuve si trova presso Cadice e quindi decide di inseguirlo immediatamente per giungere a quella battaglia navale che lui sta cercando, quindi a quella battaglia risolutiva. E quindi Orazio Nelson si avvicina a Cadice per incontrare Villeneuve. E ovviamente la flotta di Nelson lo insegue, lo bracca, lo raggiunge e qui Villeneuve viene costretto alla battaglia contro l'ammiraglio Orazio Nelson. Siamo quindi arrivati al momento della battaglia, ma prima analizziamo le forze in campo. Allora, gli inglesi sono guidati dal viceammiraglio Orazio Nelson che è a bordo della HMS Victory, che era la nave proprio di Nelson. Gli inglesi hanno una grande flotta, hanno 27 vascelli da guerra, 6 fregate e un totale di 17.000 marinai. Si può dire che la flotta britannica ha un'alta qualità, alta qualità delle imbarcazioni e alta qualità degli uomini. Si tratta di marinai, di ufficiali, addestrati, esperti, pronti al combattimento, quindi sicuramente la flotta britannica ha un buon numero, ma soprattutto ha una alta qualità. Dall'altro lato, la flotta francese è guidata proprio, l'abbiamo detto, dall'ammiraglio Villeneuve, che si trova sulla, mi perdoneranno i francesi la pronuncia, ma la Bouchenture, o Bouchenture. Comunque si tratta della nave ammiraglia francese e lui ha a disposizione 18 vascelli francesi e 7 fregate. Alleati dei francesi ci sono gli spagnoli, come abbiamo detto prima. Gli spagnoli, guidati da Federico Gravina, e questo è il nome del generale dell'ammiraglio spagnolo, hanno invece 15 vascelli. E i francesi e gli spagnoli insieme hanno 30.000 uomini. Quindi la coalizione franco-spagnola ha molti più uomini, quindi ha una quantità superiore, leggermente superiore di navi e ben superiore di uomini, ma ha una minore qualità. Molto spesso gli uomini non sono perfettamente addestrati, alcuni ufficiali erano anche degli ufficiali un po' di risulta, che non erano stati impiegati, diciamo, da Napoleone sul continente, quindi la qualità della coalizione franco-spagnola è più bassa rispetto a quella britannica. Quindi ci troviamo effettivamente, in questo caso, di fronte a uno scontro tra qualità e quantità. E arriviamo adesso al piano di battaglia. Attenzione perché questa sarà una lezione di fine tattica navale. Qual è il piano di battaglia? I francesi, possiamo dire, che decidono di utilizzare una formazione estremamente classica, cioè si pongono sostanzialmente su una linea, una linea di navi da combattimento che sono pronte a bombardare con l'artiglieria l'avversario. Questa è la formazione classica che si utilizzava solitamente in queste situazioni e aveva il vantaggio che con questa conformazione e disposizione delle navi sul mare le segnalazioni erano molto veloci, quindi si poteva far passare un messaggio o un ordine di nave in nave con grande rapidità. E quindi i francesi di Villeneuve scelgono di posizionarsi in maniera assolutamente classica. Normalmente, normalmente, dall'altra parte si realizzava una fila uguale e contraria. E cosa accadeva? Che un vascello scegliesse un altro vascello avversario, i vari cannoni, tutte le artiglierie cominciavano a bombardarsi l'uno con l'altro e chi bombardava di più e meglio e chi affondava di più le navi dell'altro aveva vinta la partita. Quindi era sostanzialmente, si trasformava praticamente in uno scontro uno contro uno e poi vinceva chi aveva complessivamente il risultato migliore. Solo che Orazio Nelson decide di non utilizzare questa disposizione assolutamente classica, che si utilizzava comunemente, ma utilizza quello che venne chiamato tocco di Nelson, cioè una disposizione completamente diversa rispetto al solito, assolutamente originale, molto intraprendente. Cioè decide di posizionare due colonne. La prima colonna, guidata da lui stesso sulla nave Victory, doveva letteralmente attaccare in maniera perpendicolare il centro dello schieramento francese di Villeneuve. Una seconda colonna, guidata da Collingwood sulla nave Royal Sovereign, doveva attaccare invece poco più in basso. Quindi ha creato due colonne che dovevano avvicinarsi e attaccare e andare nella mischia contro la linea francese. Per quale motivo? Il primo motivo è i lati da cui puoi sparare. Lo schieramento francese, disposto in questo modo, poteva sparare, tutte le navi francesi potevano sparare solamente da un lato della nave, ovviamente. Mentre invece le due colonne in avvicinamento avrebbero potuto sparare da entrambi i lati della nave e quindi avrebbero avuto un vantaggio di fuoco piuttosto importante. Poi, in questo modo, Nelson ottiene, con la sua grande velocità, cioè intervenendo velocemente, ottiene di arrivare subito alla mischia contro le navi francesi. Quindi evita che i francesi possano scappare, disimpegnarsi, allontanarsi e rimandare lo scontro. Ma arriva a Nelson arrivare alla mischia perché riteneva che le sue navi, che avevano una qualità superiore, fossero avvantaggiate nella mischia stessa. Quindi Nelson voleva la mischia tra navi francesi e navi britanniche. E con questo attacco, fatto praticamente nella parte bassa della linea francese, le avanguardie, soprattutto le avanguardie nella parte alta, avrebbero dovuto fare tutto un lungo movimento per giungere in aiuto delle navi attaccate dai britannici. E quindi una parte, una porzione delle navi francesi sarebbe stata fuori gioco per gran parte della battaglia. Questa formazione aveva anche, diciamo, c'è anche il lato della medaglia, no? C'è anche, aveva anche dei difetti. Quali erano i difetti? I difetti erano che sia la Victory che la Royal Sovereign, all'inizio del loro avvicinamento, sarebbero stati presi di mira da tutti i cannoni francesi. Cioè, la parte iniziale delle due colonne, le teste di ponte delle due colonne, sarebbero state sotto un fuoco incrociato all'inizio. Quindi l'avvicinamento sarebbe stato durissimo. E allora, per cercare di ovviare a questo problema, fece montare tutte le vele sulle navi, di spiegare tutte le vele disponibili per avere il massimo della velocità e quindi avvicinarsi ai francesi il più rapidamente possibile, togliendogli il tempo di bombardare la testa di queste due colonne. Nelson era sicuro di sé, era molto fiducioso della sua flotta e dei suoi marinai, ma disse anche che bisognava aspettarsi qualsiasi evenienza. Cioè, era pronto anche a gestire eventuali situazioni fortuite. Tanto è vero che diede ordine ai suoi ufficiali di seguire il piano che aveva inventato, ovviamente, ma di essere pronti anche a cambiarlo a seconda delle circostanze. Nel senso che diede libertà ai suoi comandanti di gestire i movimenti delle navi a seconda di quello che si trovavano via via davanti. Quindi ci tenne ad avere un piano preciso, ma anche molto morbido, molto malleabile. invece fonti francesi ci fanno sapere che Villeneuve aveva quasi un senso di soggezione, era molto prudente, non si trovava affatto a suo agio, aveva il morale abbastanza basso, aveva presagito in qualche modo che Nelson avrebbe utilizzato una tattica diversa dal solito. Quindi si aspettava un colpo di scena, ma non sapeva esattamente quale. Si sentiva abbastanza insicuro e allora, avendo anche dei marinai non perfettamente addestrati, optò per una disposizione delle navi classica che era più facile da gestire. Ovviamente possiamo solamente immaginare le emozioni dei marinai prima di questa grandissima battaglia, ma ci vengono riferite le parole di un marinaio inglese. Noi abbiamo avuto veramente tanto tempo in queste settimane per pensare e tutti siamo consapevoli che stiamo per concludere una battaglia che sarà determinante per le sorti e per il futuro dell'Inghilterra. Arriviamo al momento della battaglia. Alle 11.30 del 21 ottobre 1805 l'ammiraglio Orazio Nelson dà il segnale della battaglia e fa distribuire un messaggio che venga trasmesso a tutte le navi con una frase entrata nella storia. L'Inghilterra si aspetta che ogni uomo faccia il suo dovere. Questa fu la frase che accompagnò l'inizio della battaglia e finalmente la battaglia di Trafalgar cominciò. La colonna, la prima colonna guidata da Nelson, eseguì prima una leggera finta per distrarre Villeneuve e poi fece una virata improvvisa attaccando il centro dello schieramento francese. Allo stesso modo Collinwood riuscì a calibrare i movimenti della sua colonna per essere assolutamente parallelo a quella di Nelson e si dice anche che Collinwood fece una manovra particolarmente precisa che gli scappò detto beh sono sicuro che Nelson darebbe chissà cosa per essere qui su questa nave e le due colonne avanzarono rapidissime verso lo schieramento francese. Purtroppo per loro quel giorno il vento era basso quindi pur con tutte le vele dispiegate la velocità era ridotta rispetto a quella che Nelson avrebbe voluto e ci fu un fuoco di fila incrociato, un fuoco terribile di tutti i vascelli francesi contro le imbarcazioni e contro le navi da guerra britanniche. Ma nonostante questo terribile fuoco mano mano si arrivò allo scontro. Vediamo che le due colonne arrivano alla mischia furibonda, una lotta nave per nave che veramente durò per cinque ore, cinque ore di combattimento ravvicinato nave contro nave e però nonostante questa mischia furibonda si vide quasi subito che le navi inglesi tendevano ad avere la meglio perché mano mano che le due colonne entravano nella mischia e quindi navi britanniche si aggiungevano alla mischia contro i francesi il numero delle navi aumentava e i francesi erano sempre di più in difficoltà. Questa è la grandezza tattica di Nelson. Quindi la mischia fu furibonda, tremenda e mano mano sempre più a favore della marina britannica. Come previsto da Nelson le navi più a nord francesi cercarono di convergere per aiutare ma erano piuttosto lontane quindi ci misero tanto tempo per arrivare anche loro nella mischia a supporto. Siamo quindi nel bel mezzo totale, in una battaglia navale devastante con colpi di moschetto, cannoni, tutta l'artiglieria, speronamenti. Siamo nel centro della battaglia di Trafalgar quando arriva un momento storico. Nel bel mezzo della mischia Nelson si trova sulla nave Victory. Viene affiancato da una nave francese, la nave Redoutable, che aveva sopra a bordo un grosso contingente di fanteria e allora la Redoutable prova ad abbordare la nave Victory dell'ammiraglio Nelson e uno dei fanti decide di salire sulla cima di Mezzana, prende il suo moschetto, riesce a vedere l'ammiraglio Nelson da lontano, punta il suo moschetto e lì dopo aver preso la mira spara un colpo e quel colpo raggiunge perfettamente Nelson. Lo colpisce alla spalla sinistra, il proiettile si infila attraverso la sesta e la settima vertebra perché venne fatta anche l'autopsia, si infila in questo modo, penetra un polmone e colpisce Nelson e Nelson in quel momento, nel momento in cui riceve il colpo urla ci sono riusciti, sono morto, perché subito aveva capito quanto grave fosse quella ferita. Ferito e stramazzante, viene subito preso dai suoi ufficiali e portato sotto coperta, ma anche se stava sgorgando il sangue e non riusciva più a respirare, Nelson diede l'ordine di non ammainare la bandiera della nave ammiraglia per non destabilizzare i suoi uomini. Quindi continua, seppur Nelson sia stato gravemente ferito, continua la mischia e alle ore 14 la Bouchenteur con l'ammiraglio Villeneuve, quindi l'ammiraglio francese, è circondata da tutte le parti. Viene prima stretta da sinistra e da destra dalla Victory e dalla Temerer e poi la Neptune, la Leviathan e la Conqueror arrivano, circondano completamente la nave ammiraglia francese e Villeneuve è costretto ad arrendersi, a dichiarare la resa sua e di tutta la flotta francese. La battaglia per i francesi è stata persa, la tattica di Nelson ha stravinto su quella di Villeneuve e la battaglia di Trafalgar è stata letteralmente definitivamente vinta dalla marina britannica, che ha raggiunto uno dei più grandi risultati della sua storia. Nell'ambito della battaglia di Trafalgar c'è la drammatica morte dell'ammiraglio Orazio Nelson. Nelson era stato portato sotto coperta perché la ferita subito era apparsa gravissima. Lui riesce ad avere in tempo la notizia della vittoria, quindi sa che la sua flotta ha vinto, però le sue condizioni peggiorano sempre di più. È nel letto sanguinante, sappiamo che avendo saputo che si stava avvicinando una tempesta, il suo ultimo ordine fu quello di ancorare le navi, perché non voleva che si sfracellassero ovviamente sugli scogli o finissero in secca, e poi la forza di Nelson, le forze di Nelson cominciarono letteralmente ad abbandonarlo. L'infermiere che seguì Nelson fino all'ultimo, William Bitti, riuscì a registrare l'ultima frase dell'ammiraglio, cioè grazie a Dio ho fatto il mio dovere. Dopodiché il polso divenne sempre più debole, cominciò a mormorare, quasi a delirare, si sentirono le ultime parole, probabilmente le parole di una preghiera che era relativa a Dio, al mio paese, fino a che giunse Alexander Scott, il cappellano che fece l'estrema unzione all'ammiraglio Nelson e così Nelson alle 16.30 di quel giorno morì, da vittorioso, ma morì e non ebbe il tempo di vedere la sua flotta e i suoi uomini festeggiare. E tra l'altro venne il suo corpo prelevato e inserito in un barile di brandy per essere conservato e poi riportato in patria il prima possibile. Dopo la battaglia di Trafalgar c'è stato però un altro momento che raramente viene spiegato, in cui c'è stata una specie di missione di salvataggio, nel senso che ormai la flotta francese e franco-spagnola era quasi completamente distrutta, anche la flotta britannica aveva subito gravi danni, eppure nel bel mezzo dei giorni successivi, quando una tempesta cominciò ad agitare il mare attorno a Trafalgar, l'ammiraglio Gravina, cioè il comandante spagnolo che di lì a poco, qualche giorno dopo, per le ferite morì, lasciò il comando a Julian Cosmao. Julian Cosmao pensò di prendere alcune navi francesi e spagnole che potevano ancora battere il mare, avevano ancora le condizioni minime per battere il mare, per cercare di raggiungere l'ammiraglio Collingwood, che era ovviamente il secondo di Nelson, sopravvissuto, per cercare di recuperare le navi francesi e spagnole prigioniere della flotta britannica. Ci fu questa disperata missione di salvataggio, Collingwood si dispiegò anche lui con meno navi rispetto all'inizio in assetto da combattimento, poi quando le due linee si avvicinarono però né Cosmao e neanche Collingwood cominciarono ad utilizzare l'artiglieria, perché sapevano che tutte le navi sarebbero colate a picco, sarebbe stato un suicidio, così come le navi ormai erano ridotte. E allora nel bel mezzo della tempesta, col mare alto, col mare grosso, le navi francesi e spagnole cercarono di avvicinarsi alle proprie navi che erano di proprietà ed erano ormai sotto il controllo di Collingwood, di abbordarle oppure di attaccarle, di trascinarle via per recuperare quanto più possibile della grande armata che Villeneuve aveva guidato. In realtà si trattò di una missione quasi inutile, vennero recuperate alcune navi dai francesi e dagli spagnoli al costo di perderne altre, quindi fu veramente un'operazione quasi completamente inutile, eppure fu profondamente stancante, fu quasi da incubo per Cosmao e per Collingwood, perché nel bel mezzo della tempesta questi combattimenti e queste mosse da parte delle navi furono veramente agghiaccianti. Tanto è vero che Collingwood scrisse all'ammiragliato britannico, riferendo di questa lotta con i residui francesi e spagnoli, in questa lotta in mezzo alla tempesta, e scrisse in questa settimana è stata talmente pesante, talmente pericolosa in mezzo alla tempesta che preferirei un'altra battaglia di Trafalgar piuttosto che fare un'altra settimana come quella che ho vissuto. Quindi, dopo questo disperato tentativo di recuperare le navi, finisce veramente la battaglia di Trafalgar con la vittoria britannica che avrà grandi effetti sugli equilibri geopolitici del mare nel periodo napoleonico. Quindi, per concludere, quali sono le conseguenze della battaglia di Trafalgar? Ovviamente la Gran Bretagna, l'Inghilterra, ha stravinto. Ha stravinto e si conferma in realtà come la grande dominatrice dei mari. Sarà la più grande potenza navale, almeno fino alla Prima Guerra Mondiale, sarà la più grande potenza navale e i francesi non si permetteranno più di sfidare gli inglesi sul mare. Assolutamente. Da parte francese, ovviamente, la delusione fu molta. Villeneuve, in realtà, che fu prigioniero britannico, venne poi rimandato in Francia sotto custodia, sotto libertà vigilata, ma in una locanda venne ritrovato morto con sei coltellate al petto. Ufficialmente venne categorizzato come un suicidio, forse per non dover rendere conta Napoleone, ma ci fu questa tragica morte molto sospetta di Villeneuve, cioè dell'ammiraglio francese. Il bello, la cosa curiosa, è che nel frattempo Napoleone si trovava a combattere contro gli austriaci e per settimane non seppe il risultato della battaglia di Trafalgar. Quindi la notizia giunse a Napoleone settimane e settimane dopo e quando Napoleone venne a sapere della totale sconfitta di Trafalgar e anche della morte di Villeneuve, inizialmente la tenne assolutamente nascosta alla nazione francese, perché Napoleone aveva il controllo dei media, dei giornali di Parigi, quindi diede l'ordine preciso di non stampare nulla di nulla, riuscì per un mese a tenere questa notizia nascosta a tutti quanti i francesi e quando però cominciò a farsi incalzante il bisogno di sapere come era finita la battaglia di Trafalgar, anche perché c'erano troppi marinai coinvolti, troppe famiglie che chiedevano notizie, allora Napoleone diede ordine veramente di stampare una falsa notizia dicendo che a Trafalgar c'era stata una grande vittoria francese, quindi ci fu una mistificazione assoluta da parte di Napoleone nei confronti dei francesi per tenere nascosta questa sconfitta bruciante e Napoleone dovette cambiare la sua strategia, rinunciò completamente per sempre all'idea di invadere la Gran Bretagna, il suo potere si spostò solo sulle conquiste continentali e in realtà diede ordine di costruire una nuova flotta, perché Napoleone voleva poi ritornare con un numero di navi francesi soverchianti rispetto a quelle britanniche, però questa produzione della marina francese che si stava letteralmente riarmando poi con la caduta di Napoleone conobbe un momento di arresto, un momento di blocco e quindi mai più la Francia riuscì a programmare una vera e propria invasione della Gran Bretagna. Questa quindi battaglia di Trafalgar e la memoria di Orazio Nelson divennero e sono ancora oggi per tutti gli inglesi qualcosa di leggendario. Allora speriamo di aver riportato alla luce la battaglia di Trafalgar con tutte le sue dinamiche anche umane, con tutta questa grande tattica di Nelson, una tattica molto spinta, una tattica audace che poi non verrà più riutilizzata, nel senso che pochi riuscirono poi o vollero anche emulare Nelson, quindi veramente una cosa molto audace e ovviamente come sempre vi invitiamo a iscrivervi immediatamente al canale di Scripta Manent. Se non vi iscrivete noi vi prenderemo e vi porteremo, vi trasporteremo per tutti i mari del mondo, quindi andrete prima in Egitto, poi dall'Egitto vi facciamo andare ai Caraibi, poi tornerete indietro a Brest, poi vi mandiamo nel Regno Unito, poi tornerete anche in Italia, ma poi andrete in Tunisia, poi vi riportiamo a Calais e vi portiamo in giro per tutto quanto. Bello direte voi, no perché lo facciamo fare a nuoto!